Quasi tutte le malattie che minacciano la vista possono essere curate o arginate se diagnosticate in tempo, ma solo il medico oftalmologo ha gli strumenti e la competenza per farlo. Prevenzione e telemedicina sono fondamentali, spiega il professore Leonardo Mastropasqua, direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Anche in Abruzzo torna la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus, nata dalla collaborazione tra l'Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti e la Società Oftalmologica Italiana. L'iniziativa per prevenire la cecità partono dalla cornea come il keratocono, possono arrivare alla retina come la retinopatia diabetica, come la degenerazione maculare legata all'età e come le neuriti ottiche, come il glaucoma, che è una malattia e l'altro è silenzioso dalla vista che se non lo scopri per tempo ti porta alla cecità perché non dà sintomi. Quindi sapere che se io comincio a vedere delle immagini distorte posso avere una degenerazione maculare legata all'età, che se sono diabetico nel 30% dei casi posso avere anche di più una retinopatia diabetica che devo curarmi, che se ho qualcuno in famiglia che ha il glaucoma posso avere la pressione alta e devo curarmi, che se sono adolescente, se ho famiglia, lirità, o comincio a vedere male posso avere un keratocono e quindi vado a farmi la vista oculistica perché oggi il keratocono con il cross-linking si può arrestare e questo colpisce le adolescente. Voi capite che fare dei controlli oculistici è fondamentale. I controlli oculistici vanno fatti alla nascita nella neonatologia, a tre anni vanno fatti presso le parti oculistici e presso l'ortoottica, se è tutto ok a sei anni vanno fatti e poi dopo i 40 anni una visita l'anno dall'oculista va fatta. In un periodo caratterizzato dalla pandemia, quale messaggio possiamo inviare a coloro che ci seguono? Siamo andati avanti grazie al nostro centro di riabilitazione che è un centro nazionale dell'IAPB che abbiamo qui costituito e che abbiamo anche del personale dell'IAPB tipo la dottoressa Perna che porta avanti il discorso di ortotica, noi stiamo praticamente facendo attraverso la telemedicina dove non possono camminare i pazienti, camminano le foto. Quindi con la telemedicina si riesce non solo a far camminare le foto dei pazienti, a vedere se ci sono problemi e quindi a chiamare solo quei pazienti che hanno problemi e poi anche a poter fare riabilitazione a distanza nei pazienti che devono essere riabilitati perché hanno bisogno di fare delle riabilitazioni visive.